cella 211 dopo i primi tre minuti mi son detto questa è la classica americanata e invece no è un bellissimo film spagnolo spiazzante con anche dentro qualche attore forse uno solo della casa di carta fatto bene ma fatto bene 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 veloce 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 e a basso costo complimenti per questo film voto 8.4